Hanno diverse soluzioni, da Vutai a Gunseye, insomma hanno caratteristiche diverse con la capacità poi sugli esterni di creare sempre pericoli non solo negli uno contro uno ma anche nei lavori di catena, perché poi specie a sinistra c'è una continua propensione a sovrapporre di costa che è anche un piede importante. Forse noi dovremmo cercare di trovare i punti deboli perché se dovessero portare molti uomini ad offendere dovremmo essere cinici e bravi nello sfruttare eventuali spazi che potrebbero lasciare. Quindi sotto quell'aspetto è uno e l'altro è poi come dicevo prima dove noi dobbiamo cercare un miglioramento costante e in un ambiente del genere voglio vedere una squadra comunque di personalità che non si tiri indietro nel giocare, che cerchi di essere superiore o deve cercare di essere superiore nel gioco all'avversario. Qualora non ci riuscisse deve sicuramente soffrire e fare un'ottima fase difensiva perché da lì non puoi prescindere. È una squadra che gioca, se gli diamo spazio e tempo di giocata quindi dobbiamo stare molto attenti. Non possiamo sicuramente fare 90 minuti a prenderli continuamente a uomo perché non si può fare. Dobbiamo essere bravi a capire la partita, i momenti della partita, i momenti in cui dobbiamo soffrire, i momenti in cui invece abbiamo dalla nostra anche la verve giusta per attaccare, dove si creano gli spazi in base alla preparazione della partita che abbiamo fatto. Questo non sarà facilissimo ma dobbiamo provarci continuamente cercando di capire anche che l'equilibrio è fondamentale. Le insidie ci sono poi, la disamina la faremo a fine partita, ma le insidie ci sono perché è una squadra forte, una squadra organizzata per fare un grande campionato, una squadra di blasone ed è naturale che sia una partita complicata. Ma io penso che la stessa cosa la stiano pensando anche loro. vengono a Foggia, una squadra attrezzata, una squadra buona, forte e anche per loro sarà una partita complicata.